qui nel 17 e senti tu domani, mi dico sapere subito ciao come va? si, non è quello come va? torna in gara, torna in gara torna in gara torna in gara rara prima volta, la piazza è il tuo che numero che numero e guarda, questo non è cosa vero guarda il passo dell'Egizio guarda il passo dell'Egizio questo è una bomba lo vedi, ti ho questo scusate e però, scusa alla fine è cascata lui bravi